Per acquistare crediti visitate FIFA Coinstank, un sito economico veloce e sicuro al 100%. Inoltre potete utilizzare il mio codice coupon che trovate in descrizione per avere il 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua orgasmi che sono qui a portarvi un nuovo episodio dei Potential Transfer di gennaio. Sono davvero contento che vi stia piacendo la serie, che continuate a lasciare sempre dei nuovi mi piace. Vi invito appunto a lasciarne altri per il prossimo episodio, se raggiungiamo i 400 appunto ci sarà un nuovo episodio. Vi ringrazio anche per tutti i commenti che mi state scrivendo riguardanti i consigli appunto del trattativo di mercato, visto che ce ne sono sempre tante, il mercato non dorme mai come si dice. Per cui continuate a lasciare commenti e scrivermi i giocatori che mi consigliate che dovrei trattare nei prossimi episodi. Comunque, partiamo subito. Abbiamo tre giocatori importanti, molto importanti. Episodio esplosivo perché trattiamo... Anzi, catapultiamoci subito senza perderci troppo in chiacchiere con il primo giocatore, che è un'indiscrezione paurosa, nel senso che io appena l'ho letto stavo ridendo. E parliamo di Balotelli, Balotelli in particolare. Sappiamo, anzi so che, vabbè, da quello che ho letto, che Raiola era Vinovo, che per il suo assistito, sappiamo che a Pogba è gestito da Raiola, e tra una balla e l'altra potrebbe aver proposto Balotelli alla Juventus. La cosa appunto, come ho detto, mi ha fatto sorridere, perché penso che comunque sia abbastanza utopistica come trattativa. Però in ogni caso Raiola continua a proporre Balotelli a qualsiasi squadra, perché ormai si è capito che tipo di giocatore è e che non va bene in nessuna squadra, si può dire. Comunque sia, non stiamo a parlare di cifra, non stiamo a parlare di dettagli più tecnici, perché comunque è solamente un'indiscrezione, però era giusto portarla sul canale perché, secondo me, è abbastanza anche divertente come notizia. Fatemi comunque sapere voi cosa ne pensate di questa, secondo me, Fandonia, però comunque sia ci potrebbe anche stare. Andiamo con il secondo giocatore di oggi e stiamo parlando di un giocatore che farebbe molto comodo alla squadra in cui potrebbe andare. Si parla di Witzel, Axel Witzel, dello Zenit, che è stato, diciamo, trattato dal Milan, che potrebbe prendere il giocatore. Potrebbe, mi sembra, diciamo, tanto, perché il giocatore è stato veramente pagato tanto dallo Zenit, pagato circa 40 milioni al Benfica, che è una cifra ovviamente esageratissima, però comunque altissima come cifra e sappiamo che il Milan non ha, diciamo, grandi risorse finanziarie ultimamente e si è parlato di una sorta di prestito oneroso di circa 3 milioni più un riscatto obbligatorio a 17, qualcosa del genere. Quindi arriverebbero circa 20 milioni, che è comunque la metà di quanto è stato pagato Witzel. Quindi non so poi quanto possa essere efficace questa mossa di mercato. In ogni caso è un giocatore che farebbe stra bene sicuramente al centrocampo rosso-nero, che ormai non sa più che pesci prendere, visto che praticamente la maggior parte dei giocatori a centrocampo che al Milan non sono adatti, secondo me, né alla squadra né allo stile di gioco, se si può dire. Comunque sarebbe un colpo veramente pauroso. Come terzo e ultimo giocatore invece ci spostiamo più all'estero, andiamo in Inghilterra, torniamo a Manchester, sempre parlando del Manchester City, perché da quello che si legge nelle ultime notizie potrebbe essere già arrivato il primo acquisto di Pellegrini in questo mercato invernale, cioè Wilfred Bonny, che potrebbe andare al Manchester City appunto. Si tratta di un acquisto veramente pauroso, secondo me, perché Bonny è davvero un ottimo ottimo attaccante. Adesso non mi ricordo precisamente quanto è stato pagato Bonny o quanto sarebbe stato pagato Bonny dal Manchester City. Comunque, io lo seguiva ai tempi del Vitesse, mi piaceva davvero tanto come giocatore, infatti ero contento che poi è stato comprato dallo Swansea. Ah, ecco, è stato pagato 34 milioni e mezzo circa, quindi è una cifra veramente altissima, quindi un'ottima plusvalenza da parte dello Swansea che comunque si priva di un ottimo giocatore, davvero uno dei migliori attaccanti della Premier League e sicuramente uno dei più sottovalutati della Premier League. Quindi, secondo me, è un ottimo acquisto, anche perché Negredo non farà più parte dei piani di Pellegrini, penso che verrà riscattato poi dal Valencia o che ne so. Comunque sia, raga, l'episodio finisce qui, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, 400 mi piace, come ho detto all'inizio, uscirà un nuovo video e vi invito come sempre a scrivermi nei commenti altri giocatori da trattare in futuro, serie A e comunque anche esteri. E niente, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. noi ci vediamo al prossimo video, bella raga!